Dopo una stagione strepitosa condotta con l'imbarcazione Vento di Sardegna in cui insieme a Riccardo Apolloni, Luca Tosi e Tommaso Stella abbiamo vinto la Quebec Semalò e con Riccardo Apolloni la Ciustar stabilendo due record. Ora siamo andati in Mediterraneo e questa è l'ultima regata della stagione, la Rolex Middle Sea Race. Dopo quattro mesi di assenza dal Mediterraneo adesso è un piacere essere tornati qui, ora siamo a Cagliari e siamo in procinto di partire per Malta. La regata partirà sabato prossimo, 20 ottobre, circunnavigheremo la Sicilia con partenze e arrivo da Malta passando esterne tutte le isole, circa 600 miglia di navigazione che dovremmo compiere meteo permettendo in quattro giorni. Per questa occasione abbiamo un equipaggio internazionale, il solo trasferimento sarà molto impegnativo, infatti partiremo domani mattina e troveremo condizioni di vento piuttosto forte, 20-25 nodi, quindi le 350 miglia che separano Cagliari da Malta le percorreremo piuttosto velocemente, sarà un bel allenamento e un bel recupero del piede marino. Questa sarà un'edizione storica alla Rolex Middle Sea Race con quasi 100 barche e oltre 17 nazioni. Siamo finalmente arrivati a Malta con un bel vento da ovest-nord-ovest. Ora siamo qui all'ormeggio preparando la barca e questa sarà i controlli di sicurezza e dopo domani si parte. Continuate a seguirci!